oggi vi mostrerò qua che tipo praticamente ho visto tipo lui lui che giù anzi no vedete qua guardate si chiama non lo so come si chiama non lo so come voi potete fare e quindi sapete l'oggetto mister c'è colato nel zoom 4 l'oggetto misterioso se non l'avete visto l'ha seguito giù nelle cartelline e con l'armatura di del bruto un po dei pezzi del bruto e hanno fatto l'oggetto misterioso con l'oggetto del bruto poi allora vi danno un libero del parto battaglia anzi due anzi tre poi il mantello con la non so cos'è il mantello poi vedo un'altra stellina quindi sono 4 queste sono 5 e queste sono 6 ho visto tipo raga ho visto un bambino che aveva completato tutte le sfide ma come cazzo fanno poi ascesa stellare vabbè raga io non so se ne riesco a fare tutte queste sfide c'è non ce l'ho c'è non so se ci riesco a fare c'è tutte queste cose e poi nelle cartelline vi faccio un nuovo video del del della stellina segreta se ancora c'è se vuoi vedere il caricamento bella raga bella che di realtà bella muoce di video un minuto mi dispera bella